La J.K.A. è la conquista del mondo, i quattro moschettieri di Nakayama. Chi voglia proseguire a raccontare la storia del karate degli ultimi 50 anni, non può fare a meno di parlare di una sua nuova dimensione, quella politico-sportiva e agonistica, che è diventata prevalente. I puristi che arricciano il naso di fronte a federazioni e campionati dovrebbero prendersela con Anquitosu, che inserendo il karate nel programma di educazione fisica delle scuole di Okinawa e standardizzando il programma e la didattica, ha creato le premesse per la sua sportivizzazione. La tendenza naturalmente si è accentuata quando il karate trasferito nel Giappone continentale è entrato nelle università. Il confronto e la competizione di per sé non entrano necessariamente in conflitto né con l'efficacia né con lo spirito marziale. Abbiamo visto che già a Okinawa esistevano, sia pure in modo informale e non organizzato, sfide tra i principali esponenti delle varie scuole. Lo stesso Itosu, per affermare l'eccellenza dello shurite, aveva sfidato i campioni di Naha, e Maso Yama, al cui stile di karate non si può certo rimproverare la mancanza di efficacia, afferma, sicuramente non mentendo, di aver vinto un torneo pan giapponese nel lontanissimo 1947. Tuttavia una vera attività agonistica comincia soltanto dieci anni dopo, quando la GKA, la più strutturata e meglio organizzata tra le associazioni di stile, bandisce nell'ottobre del 1957, pochi mesi dopo la morte di Funakoshi, il suo primo campionato nazionale di Kumite Katah, che rimarrà rigorosamente maschile fino al 1974, quando sarà introdotto il Katah femminile. Per vedere il Kumite femminile bisognerà attendere il 1985. Non è un caso che la prima gara ufficiale si sia svolta dopo la morte del maestro Funakoshi, che era fortemente contrario, come conferma questa intervista rilasciata dal maestro Nakayama al maestro Ikeda. Maestro Nakayama, dagli studenti che praticavano il Karate mi venne rivolta la richiesta di competizioni e più precisamente di inserire la competizione nell'ambito del Karate. Interiormente ne avevo già sentito l'esigenza, ma temevo che la competizione potesse stravolgere il Karate come disciplina tradizionale. Quindi agli studenti risposi che la cosa era da escludere. Dentro di me, però, non ero convinto delle mie parole, così andai a parlare con il maestro Funakoshi. Alla mia proposta il maestro ebbe una violenta reazione e con i lineamenti del viso alterati dal disappunto, mi disse che se avevo il tempo per pensare a certe cose, era meglio che andassi a fare un po' di allenamento di Katah. Io però pensavo che il Karate, così com'era, non avrebbe avuto un futuro perché si sentiva la mancanza del confronto reale con un avversario. Nell'agosto del 1954 a Sendai, ci fu un raduno collegiale organizzato dal club di Karate dell'Università Takushoku di Tokyo. Decisi allora di organizzare una gara tra 20 cinture nere, applicando un regolamento provvisorio. La manifestazione ebbe un enorme successo per la spettacolarità delle tecniche e per la capacità e il controllo degli atleti. Non si registrarono incidenti e il fatto creò sensazione per il chime e l'estrema efficacia dimostrati. Dopo questa esperienza, a ottobre del 1957, fu organizzato il primo campionato nazionale della JKA a Tokyo. Maestro Ikeda Se il maestro Funakoshi fosse ancora in vita, forse non sarebbe contento, ma i risultati hanno dimostrato che la competizione ha dato luogo a un grande progresso del Karate in Giappone, contrariamente all'isola di Okinawa, dove la competizione non è ancora accettata. Il primo campione di kumite della JKA fu Hirokazu Kanazawa, tuttora vivente e attuale caposcuola di una propria federazione, la SKIF. Quel primo campionato è avvolto da un'aura leggendaria perché Kanazawa lo vinse con un braccio fratturato, dopo aver ricevuto il permesso di gareggiare non da un medico, come sarebbe d'obbligo ai nostri tempi, ma da Nakayama, istruttore capo. La gara di Kata fu invece vinta dal meno noto Hiroshi Shoji. L'istituzione di un campionato nazionale favorì l'espansione del Karate Shotokan in non meno di 40 università giapponesi e la sua popolarità fu testimoniata dalla presenza del principe ereditario ai campionati del 1961. Contemporaneamente, prima tra le scuole di stile giapponesi, la JKA perfezionò il proprio corso istruttori e concepì l'ambiziosa missione di diffondere i Karate Shotokan non solo nel proprio paese ma in tutto il mondo, inviando i propri istruttori in America, in Europa e nel Medio Oriente. Nel 1961 Hidetaka Nishiyama, direttore del corso, si trasferì negli Stati Uniti dove fondò la All-American Karate Federation e organizzò nel 1968, in concomitanza con i giochi olimpici, il primo torneo mondiale a inviti nella storia del Karate. A metà degli anni 60, quattro tra i migliori istruttori della JKA partirono per un tour in Sudafrica e in Europa. Al termine del quale, si stabilirono in diversi paesi cominciando a tessere la trama per una rete europea. Il più anziano di loro, Taiji Kaze, era nato nel 1929 e aveva fatto in tempo ad allenarsi con Jishin Funakoshi, col figlio Yoshitaka e con Genshin Nironishi. Arrolatosi sedicene nella Marina Imperiale e reclutato nel corpo dei Kamikaze, la guerra finì prima che fosse chiamata alla sua missione suicida. Nel 1946 ottenne il primo dan di Karate, era già secondo dan di Judo, e poco dopo entrò nella JKA, della quale divenne istruttore per il Kumite. Suoi allievi furono tra gli altri Kenosuke Noeda e Hiroshi Shirai. Nel 1964 lasciò il Giappone per insegnare in Sudafrica, dapprima da solo, poi con Noeda, Kanazawa e Shirai. Nel 1965 li accompagnò in una tournée in Italia e dopo aver girato per vari paesi, nel 1967 si stabilì in Francia, dove insegnò per quasi vent'anni prima di chiudere il suo dojo e ricominciare a tenere stagi in tutto il mondo, fino alla sua immatura scomparsa nel 2004. Kaze portava nel Karate Shoto Kanjikeyei un elemento non sportivo, legato alla sua esperienza giovanile con Yoshitaka Funakoshi. Prediligeva, come il figlio di Gichin, la posizione Fudodachi e le tecniche con le mani aperte. Anche il suo Kumite era imprevedibile e poco convenzionale, nato nel periodo delle sfide post-belliche tra università, che Kaze ricordò in una famosa intervista con Graham Noble. In quegli anni del dopoguerra, qualche volta i diversi gruppi di Karate si ritrovavano per annelamenti in comuni, Kokan Geiko, e spesso queste sessioni diventavano molto fisiche, specialmente quando c'era rivalità tra diversi stili. Il maestro Kaze ricorda nel 1949 l'occasione in cui le università Shotokan del Giappone orientale andarono a Kyoto per incontrare le università dell'Ovest, Rizumeikan, Doshisha, Kansai e altre, prevalentemente gruppi Goju, con forse un paio di Shitoryu. Kaze ricorda che prima che cominciassero gli allenamenti di Kumitee, gli istruttori Shotokan dissero agli allievi che dovevano essere senza contatto, ma volevano che si capisse chiaramente che quando dicevano senza contatto, intendevano contatto. Dato che gli istruttori di Goju fecero un discorso simile ai loro allievi, il Kumitee rapidamente si trasformò in una specie di bagno di sangue, in cui molti dei partecipanti vennero messi al tappeto, svennero o persero i denti anteriori. Fu convocata una riunione per decidere se il Kumitee dovesse essere interrotto a causa degli infortuni che si stavano verificando. Alcuni volevano interromperlo, ma Taiji Kaze disse che finché riuscivano a stare in piedi dovevano continuare. Comunque si decide che dovessero combattere i capitani, e Kaze affrontò il capitano della Ritsumeikan, che riuscì a mandare al tappeto. Tre anni più giovani di Kaze, Hirokazu Kanazawa, due volte vincitore del campionato giapponese, aveva anche egli praticato qualche volta con Gichin Funakoshi. In un'intervista concessa all'autore nel 1982, egli dichiarò, ricordando quei tempi, il maestro Funakoshi adottava posizioni più alte e più corte, ma noi diceva di adottare posizioni basse e lunghe. Mi fece l'impressione di essere un grande maestro, proprio perché non ci diceva di fare come lui. Io pratico in piedi perché sono anziano, diceva, ma voi dovete stare bassi. C'erano già allora i principali calci di adesso, c'era il Mawashigeri, anche se magari non lo si chiamava così, e c'era Yokogeri. Non c'era distinzione rigida fra Keagei e Komi. Si chiamava Kebanashi e si eseguiva torcendole anche e frustandole. Kanazawa nel 1961 si recò nelle Hawaii per diffondervi il karate. All'epoca era quinto Dan. Nel 1963 si spostò in Europa e tornò brevemente in Giappone, prima di diventare capo istruttore della KUGB, Karate Union of Great Britain. Nel 1977, quando già era settimo Dan, uscì dalla GKA per fondare la Shotukan Karate Do International. Attualmente è uno dei pochissimi decimi Dan viventi. Il grado gli è stato riconosciuto dall'International Martial Arts Federation. Kanazawa è celebre per la sua abilità nel Tameshiwari e quando l'ho intervistato sull'argomento ha fornito una risposta molto interessante. Il Tameshiwari, si deve dire chiaramente, è solo una piccola parte del karate. Si deve allenare non per fare spettacolo, ma per allenare la forza vitale. Facendolo, ci si accorge che spesso un colpo apparentemente potente non ha rotto la tavola, mentre un altro colpo, che sembrava meno forte, ha avuto successo. Ci si chiede il perché e si comincia a capire l'importanza del chi, energia spirituale. È bene allenarsi sul legno, che è un elemento naturale, ma quando si comincia bisogna prima fare tanto machuara. Röntner, abbiamo letto che lei è capace, colpendo tre tavolette sovrapposte, di rompere a sua scelta una qualsiasi, oppure tutte e tre. Qual è il principio di questa prova? Maestro Kanazawa, sorridendo, non so se sono ancora capace, perché sono otto anni che non faccio più Tameshiwari. Il segreto sta nel focalizzare il kime in un certo punto. Ci mostra i tre diversi tipi di kime, ma è impossibile spiegarlo senza vederlo. L'idea mi è venuta sentendo parlare dei tempi di Okinawa, quando certi maestri erano capaci, colpendo un avversario, di procurargli lesioni interne invisibili all'esterno, procurandogli la morte dopo qualche tempo. Mi sono messo a provare e a riprovare, e per la prima volta ho fatto questa prova nelle Hawaii, per spiegare il concetto di kime in pratica, dato che parlavo malissimo l'inglese. Si può fare Tameshiwari in molti modi diversi, per allenare diversi aspetti. Si possono lanciare le tavole in aria e colpirle mentre ricadono. È utile per la prontezza della reazione e la velocità. Oppure si possono spaccare pile di tegole. Serve per la direzione della forza. Se la direzione è storta, la linea di forza sarà diagonale e non tutte le tegole si romperanno. Perciò il Tameshiwari ha tanti scopi. Per irrobustire le nocche, certo, ma anche per la velocità di reazione e la direzione della forza. Si devono provare tutti. Kanazawa è anche praticante di Tai Chi e dà grande importanza alla respirazione durante la pratica delle arti marziali. Ecco cosa mi ha dichiarato a proposito. La respirazione è importantissima. Io pratico il Mokso compiendo tre cicli respiratori completi in un minuto. In tal modo la respirazione è in armonia con la circolazione del sangue, che ha più o meno lo stesso ritmo. Solo così si raggiunge l'armonia col proprio corpo, che è la premessa indispensabile per cercare l'armonia con gli altri e con la natura. Si parla tanto di pace, ma bisogna fare qualcosa in concreto, cercare l'armonia. Chi capisce lo spirito del Karate dopo 40-50 anni farà ancora del buon Karate. Bisogna curare l'intenzione, la respirazione, l'ohara. Il corpo dopo i 26 anni declina, ma lo spirito resta alto. La respirazione è molto importante per la salute. Il guaio è che la respirazione è una funzione automatica. Così noi non ne capiamo l'importanza e abbiamo dimenticato molti tipi di respirazione. Io pratico ancora Tai Chi e questo è un aspetto importantissimo in quella disciplina cinese. Quindi è inolcato molto importante. E ti capisco.